La Italian University Line è una università telematica pubblica, istituita con decreto ministeriale del 2 dicembre 2005, sottoposta alla valutazione e all'accreditamento da parte dell'ANVUR e promossa da un consorzio recentemente rinnovato e attualmente costituito dall'Università degli Studi di Firenze e dall'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. La IUL rilascia titoli accademici con valore legale, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale numero 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni. È organizzata sull'intero territorio nazionale, con 5 sedi territoriali, 8 sedi d'esame convenzionate e 5 politecnologici. Visto il rilevante livello dei due partners coinvolti, la IUL guarda a costruire percorsi di formazione culturale e professionale di alta qualità, in particolare attraverso un corso di laurea triennale in Metodi e Tecniche delle Interazioni Educative. Nell'ambito degli 11 Atenei Telematici presenti nel nostro Paese, la IUL costituisce un vero e proprio paradigma di riferimento unico, in grado di fungere da orientatore in un contesto dove risulta preponderante una concorrenza non sempre di alto profilo. Infatti, seguendo un modello formativo specifico, elaborato da esperti, penso in particolare al professor Biondi, al professor Formiconi, alla professoressa Sarsini e al professor Toschi, attiva una didattica altamente qualificata e scientificamente rigorosa sia sul piano erogativo sia su quello interattivo, con una forte attenzione alle nuove tecniche della comunicazione e dell'insegnamento apprendimento senza trascurare l'impianto storico, teorico e riflessivo che ha caratterizzato la tradizione pedagogica della scuola fiorentina. Oltre al già citato corso di studi, la IUL offre anche una serie di percorsi formativi post-laurea come Master, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento professionale e MOOCs che guardano alla formazione in servizio e all'aggiornamento dei professionisti, non solo della formazione. Infatti, negli ultimi mesi, seguendo la spinta propulsiva sia dell'ex Rettore Tesi e dell'attuale Rettore Dei, sia dei Presidenti Biondi e Galli, stiamo lavorando in un'ottica transdisciplinare considerando la formazione in servizio e l'aggiornamento dei professionisti di vari mondi lavorativi. Così, nel 2016, l'offerta didattica della IUL si rafforza e cresce ulteriormente. Il nostro obiettivo principale è quello di individuare le nuove esigenze della società e soddisfarle con proposte didattiche innovative. Abbiamo deciso di puntare su percorsi e docenti di qualità, offrendo ambienti di apprendimento altamente specializzati e una puntuale, costante cura delle studentesse e degli studenti, che attualmente sono 228, suddivisi tra il corso di laurea in metodi e tecniche delle interazioni educative, il Master di secondo livello, la dirigenza scolastica, una risorsa tra qualità e innovazione, organizzato in collaborazione con due partners prestigiosi come l'Associazione Nazionale Dirigenti e Alte Professionalità della Scuola e la Giunti Scuola, il Master di primo livello in musica primaria, in collaborazione con l'altrettanto prestigioso Conservatorio di Musica Luigi Cherubini di Firenze, il corso di perfezionamento dalla topografia alla geomatica, in collaborazione con l'importante società italiana di fotogrammetria e topografia, e inoltre sono tuttora aperte le iscrizioni al Master di primo livello Educazione e Formazione Pedagogia 2.0, al Master di primo livello Profilo e Funzioni del Consulente per il Miglioramento Scolastico e al Corso di Perfezionamento Biblioprof. Infine, è nostra intenzione attivare anche un corso di laurea magistrale in Innovazione Educativa e Apprendimento Permanente, in filiera con il suddetto Corso di Laurea Triennale.